Armare il drone Drone armato Ok, riapriamo Drone riarmato Perfetto Siamo in GPS, quanti satelliti? 9 9 satelliti, decollo Traslazione Traslazione a destra e traslazione a sinistra Avanti e indietro Pegliolo al contrario Manovra del cerchio Cerchio Adesso proviamo la distanza Abbiamo ipotizzato una barriera a 30 metri E adesso dovrebbe rimbalzare Perfetto Provo delle IOC Quindi da qui Passo giù E il LED 10 metri di distanza Il LED diventa giallo E' bello Mi netto semi giro In questa posizione E vado avanti Vado avanti Il drone continua ad andare avanti Dietro Parverso dietro Destra Parverso destra E sinistra Parverso sinistra Perfetto Perfetto Togliamolo Adesso proviamo un ritorno a casa No provo prima in atti Proviamo in atti Quindi assenza di GPS Quindi su E siamo in posizione centrale Quiet mode su Vedete il drone Vedete il drone Se ne va col vento Se lo lascio Il vento Se lo porto via E' un ritorno E' un ritorno Rispondi al cuore E stiamo facendo un video Perfetto Perfetto Adesso rimesso Porto avanti Facciamo il torno a casa Da qui Il torno a casa Tutto giù Aspetta Eccolo Il segnale La luce Un'altegnante fissa E ancora Porto a 20 metri E si perfetto Ok Ok Vediamo Fermo qui le nostre teste E' cominciato a scendere E' abbinissare E' discesa E' breve Ok Adesso vediamo Il gimbal come ruota Rotazione davanti Del gimbal Perfetto Rotazione dietro Del gimbal Ok La rotazione Del gimbal Avviene Domite Questa rotella Esatto Così verso giù E così Verso l'alto Perfetto Ottimo Perfetto Perfetto